E rieccoci raga, non è l'ultimo ma il penultimo video, la quinta sfida di queste sfide appunto settimana numero 3 E andiamo qua raga perché in questa location esatta si trovano oltre raga alle altre 3 che adesso vi faccio vedere, ve le faccio vedere tutte Vedete qua c'è scritto comunica, dobbiamo semplicemente fare appunto così Comunica, attacca, cerchiamo di darcele via Il secondo raga invece si troverà su questa montagna, cioè quella praticamente davanti a quella dove siamo stati adesso Eccolo lì che lo intravediamo, bello bislacco, il secondo appunto coso della comunicazione Esattamente qui troviamo appunto il terzo, ovviamente ne dovremmo trovare solo due vi ricordo eh Quindi già quelli due prima ve li ho fatti vedere potete tranquillamente usare quelli Ecco qua il terzo sotto gatto grill, dispositivo di comunicazione Cerchiamo di non morirci per favore Fortnite non farmi morire adesso Dovremo semplicemente andare nella montagna davanti, cioè dove c'è appunto il quarto dispositivo di comunicazione Eccoli là vedete che fanno i bislacchi anche loro e dovremmo semplicemente andare là Non so se lo vedete ma è letteralmente lì davanti a noi, 24 di vita, let's go Eccolo qua raga che ce l'abbiamo fatta, tutti e quattro dispositivi di comunicazione Trovate quelli, tac, facciamo così, facciamo così Ma? What the fuck? Vabbè l'importante è che abbiamo trovato tutti i dispositivi di comunicazione Sentite la musichetta che comunica E quindi raga un bacione grandissimo, ci vediamo in presto video a baralive Con l'ultimo video guida tra poco delle scatolette di ricatto Per ragazzuori